8 buoni motivi per acquistare All-in-One della Fivor One Il primo buon motivo è che contiene il doppio delle proteine rispetto agli altri e ha un terzo dei carboidrati Il secondo motivo contiene ben 3 grammi di creatina per ogni dose Il terzo motivo è l'unico che contiene un grammo di HMB Il quarto motivo ha aggiunta di glutamina e aminoacidi ramificati in forma libera oltre a quelli già contenuti naturalmente nelle proteine Il quinto motivo è comodo perché basterà prendere 3 misurini, scioglierli nell'acqua, shakerare e berlo È già pronto Il sesto motivo è l'unico con due tipi differenti di proteine Contiene proteine isolate e le caseine per essere coperti per più tempo come rifornimento di aminoacidi Settimo motivo perché contiene solo materie prime certificate come potete vedere qui davanti L'ottavo motivo ti fa risparmiare perché qui hai già il meglio per costruire massa muscolare Il quinto motivo è un'ottavo motivo di essere coperti per 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 essere coperti per